Carlo Papeto gente comune che cosa significa per te questa doppietta per me tutto perché sono venuto qui dal primo mese sono molto contento molto molto contento molto felice voglio ringraziare a Mister il suo staff e anche la società per la fiducia questo è molto importante per me e dobbiamo continuare così. Andrelli di G24 sei in grande condizione fisica Grosso sembra essere riuscito a far vedere le tue qualità sei d'accordo? Sì sì questo primo mese non non sono pronto però dopo dopo un mese un mese fa mi ha detto che ora sto bene io do sempre sempre massimo ogni allenamento ogni partita e voglio dare massimo per questa maglia ma anche tutti dobbiamo continuare così perché è l'unico modo. Visca Frosinone Today complimenti per il gol e per la prestazione sei il tredicesimo calciatore che va a segno in questa prima parte di stagione è proprio il gruppo uno dei segreti del Frosinone? Sì questo questo ma penso che tutti oggi vanno visti che siamo una grande squadra non grande grandissima squadra e questo fa la differenza. Di Ruzza del tifoso quanto è cresciuto in particolar modo a livello tecnico e tattico da quando è arrivato a Frosinone? Sì tanto tanto ma non tanto tecnico e tattico come con tempo con come se nel corso del tempo sì sì questo è più più differenza differente dal Croazio. Radio Day complimenti per la doppietta con quale compagni di reparto ti trovi meglio per le tue caratteristiche? Tutti tutti sono bravi ma fuori dal campo sono con Nova perché parla la mia lingua ma tutti sono bravi i ragazzi e sono molto molto contento che sono qui. Grazie. Grazie a tutti.